Incendio nella tarda serata di ieri sul litorale di Capaccio Pesto, in fiamme un vecchio casolare abbandonato in via Padula, abusivamente trasformato nel tempo in un baraccamento occupato da extracomunitari senza fissa dimora. Le lingue di fuoco divampate, forse a causa di un falò acceso dai migrati per mitigare il freddo, hanno completamente distrutto l'immobile, comunque già di per sé un rudere fatiscente, riducendo in cenere anche brande, materassi, suppellettili e mobili di fortuna. Affiotare letteralmente il principio d'incendio è stato uno splendido esemplare di Bracco di Weimar, del locale allevamento Weimaraner Kennel dell'Antica Pestum, il quale nel corso di una sessione di addestramento notturna ha avvertito il pericolo conducendo sul luogo il padrone, il quale ha subito allertato vigili del fuoco e carabinieri. Sul posto sono così intervenuti i caschi rossi di Agropoli, diretti dal capo di staccamento Angelo Piccariello, i quali hanno domato il ruogo in pochi minuti. Rilievi dell'incendio a cura dei militari dell'arma dell'aliquota radiomobile della compagnia di Agropoli, i quali hanno anche sgomberato un gruppo di magrebini.